Buongiorno a tutti, allora felpettina da brrrr che freddo che fa perché recuperiamo piano piano le gare dello sci. Siamo arrivati allo slalom gigante femminile di Semmering dello scorso 27 dicembre 2022, quindi di parecchi giorni fa. Andiamo a vedere com'è andata la prima manche e quindi il riepilogone del gigione sulle atlete che non hanno finito la prima manche, naturalmente calcolate solo sulle prime trenta perché non vi voglio lesionare troppi testi. Classifica dopo la prima manche e naturalmente posizione eventuale di qualche italiana. La prima, ahimè, con il pettorale 15, la gasienica dania, è la prima che non termina la gara. Dopo il primo intermedio in luce rossa di 45 centesimi va in rotazione e finisce per non rimanere in pista. Peccato, 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 però una su 15. E giustamente per mantenere la media anche la numero 30, la O'Brien, fa la stessa fine, però dopo il secondo intermedio, anche lei in luce rossa di bene un secondo e 57 centesimi, va anche lei in mezza rotazione, troppa irruenza, troppa foga per intenderci. Sapete, la potenza è nulla, senza controllo, finisce per andare fuori giri e uscire di pista. Quindi sono due su 30, non terminano la gara, la O'Brien e la gasienica, Daniel. Una prima manche comunque dominata, signori miei, da sua maestà, Michaela Schifrin, che fa letteralmente il vuoto con ben 72 centesimi di vantaggio sulla Vlova e 73 centesimi sulla Borlet. Perché? Però tenete conto che la decima è solo a un secondo e 24, quindi dalla seconda alla decima si possono giocare tranquillamente il podio, visto che ci sono solo 50 centesimi, in otto sono in 52 centesimi, centesimino più centesimino o meglio. Però il problema è che dalla prima alla seconda ci sono 72 centesimi. Per quanto riguarda le italiane, la Bassino è quarta a 89 centesimi e la Brignone è sesta a 98 centesimi dalla Schifrin. Quindi tutte e due possono provare, sperare, ambire al podio, visto che comunque la Bassino è a 17 centesimi dalla Vlovo e la Brignone è a 26 centesimi dalla Vlovo, che è seconda e quindi sono lì lì. Per quanto riguarda le altre, sfiorata la qualificazione per la Zenere, Asia, Zenere, trentunesima, 15 centesimi di troppo, poi trentasettesima la Melesi e sopra il quarantesimo posto la Platino e la Pirovano e anche la Belfond che era all'esordio, meno del cinquantesimo ma più del quarantesimo posto. Non sto a specificare, comunque dovrebbero essere quarantunesima, quarantacinquesima e quarantottesima, ma cambia poco. Non è che cambia più di tanto. Quando sei dopo la trentesima sei fuori. Mentre invece la classifica della prima Manche vede la Schifrin al primo posto, la Vlovo al secondo, la Vorlet al terzo, la Bassino al quarto, la Hector al quinto, la Brignone al sesto, la Gutberami al settimo, la Movinkel all'ottavo, la Höllmann al nono e la Frossombe al decimo. Metto da parte la classifica della prima Manche perché poi faremo la comparazione con la seconda. E a proposito di seconda andiamo subito a vedere com'è andata perché la prima a scendere è Caterina Uber che sfrutta la squalifica della Grenier perché praticamente c'è un contasecondi, no? È partito troppo presto, troppo prima o troppo dopo in base a quel contasecondi in cui tu puoi partire. Tu devi riuscire a partire nel mezzo. Il contasecondi fa cinque, quattro, tre e tu quando vuoi parti. Però non puoi andare oltre i cinque secondi e non puoi partire prima che inizi il conteggio. Lei probabilmente è partito prima o dopo e a causa di questo è stata squalificata. Una puttanata totale. Però la Caterina Uber ringrazia, entra nelle 30 al posto della Grenier e quindi vediamo cosa combinerà. In suo tempo finale 2-11-57 non possiamo dire nulla perché è la prima a scendere. Può aver fatto bene, può aver fatto male. Errori non ne ha fatti però bisogna vedere se era veloce, se non era veloce, se è qui, se è sul segno. Lo sapremo subito perché tocca la Morzinger 29esima dopo la prima manche vantaggio di 16 centesimi sulla compagna di squadra. Una discesina senza infamia, senza lode che comunque le permette di stare davanti alla compagna di squadra appunto di 5 centesimi. Quindi aveva ben 16 di vantaggio, gli ha persi due terzi. Due terzi andati, anche hanno fatto... Ma ciao! Tocca la Miradolì, Romain Miradolì, 28esima dopo la prima manche, vantaggio di 8 centesimi. Incredibile, ma è vero. Termina con lo stesso tempo della sciatrice austriaca e quindi abbiamo due atlete al primo posto. Dopo la discesa di tre sciatrici, due sono al primo posto e uno al secondo. Tutte vicine, vicine. Tocca la Rast, Camille Rast. 27esima dopo la prima manche, vantaggio di 14 centesimi sulla sciatrice francese. Calcoliamo sulla francese perché è quella che aveva il tempo più basso. visto che sono finite tutte e due a pari merito, ma... E bisogna dire, signori, che la prova della Rast è da libidide. Si prende il primo posto con ben 48 centesimi di vantaggio, quindi incrementa del quadruplo quasi. Tre volte e mezza. Tre volte e mezza, sì. Centesimo più, centesimo meno, tre volte e mezza. Da 14 a 48. Libidide. Vedremo se le servirà per entrare magari nelle 20 o addirittura nelle 15. Tocca la Twiberg. Ventiseiesima dopo la prima manche, vantaggio di solo un centesimo sulla sciatrice elvetica. Buona prova, si prende il primo posto con 11 centesimi di vantaggio. Brava, ma non è una prova da libidine. Le prove da libidine devono avere almeno 15 secondi di miglioramento dal vantaggio iniziale. Se no, sono buone prove, discrete prove, in base a sufficienti prove. Tocca la Sibenhofer, vantaggio di 28 centesimi e venticinquesima dopo la prima manche. Questa mi consente una gara da libidine, visto che si prende il primo posto portando il suo vantaggio a ben 52 centesimi. Quindi, bella prova della Sibenhofer, aveva 28 centesimi, ha quasi raddoppiato il suo vantaggio portandola a 52 prendendosi il primo posto. Queste le possiamo definire gare da libidine. Tocca alla Wild, ventunesima dopo la prima manche, vantaggio di 29 centesimi sulla sciatrice austriaca. Fatemi controllare che sia giusto, sì, perché è la Sibenhofer. Alla fine, pur perdendo qualcosina, si prende il primo posto per 23 centesimi. Quindi, praticamente, nella 29 ha perso 6 centesimi di un'anticchia. Quindi, possiamo dire, gara discreta, più che sufficiente, della Wild. Vedremo se basterà per entrare nelle 15, la vedo molto, molto difficile. Tocca alla Ricarda. Ricarda, 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 Azer. Vantaggio di un solo centesimo sulla sciatrice elbetica e ventesima dopo la prima manche. Una gara da mezza libidine si prende al primo posto per 16 centesimi. Quindi, incrementa di 15 centesimi, ma non voglio esagerare. Dai, diciamo una gara da tre quarti di libidine. Tre quarti, però, non intero. Tre quarti di libidine per l'Azer. Tocca alla Stiernesum, diciottesima dopo la prima manche. Vantaggio di ben 48 centesimi sulla sciatrice austriaca. Vediamo se è austriaca, perché ogni tanto... No, sulla sciatrice svizzera, perché prima è la Wild. Infatti, mi sembrava. È la Wild, che prima la Wild è svizzera. La Sibenhofer era austriaca. Anche per la Stiernesum una gara discreta. Si prende il primo posto, ma, ahimè, perde 22 centesimi del vantaggio iniziale. Si deve accontentare di rimanere prima per 26 centesimi. È una gara in cui le sciatrici stanno facendo fatica a recuperare tante posizioni. Magari un due o tre le riescono a recuperare, poi vengono sorpassate subito. Tocca alla Robinson, Alice, facci felice. Sedicesima dopo la prima manche. Vantaggio di soli 6 centesimi sulla sciatrice norvegese. Oh, finalmente una gara da doppia libidine per la neozelandese, che si prende il primo posto con ben 85 centesimi di vantaggio. Attenzione perché la piccola Alice potrebbe entrare nel paese delle prime dieci. Anziché nel paese delle meraviglie, nel paese delle prime dieci. La classifica, signori miei, Dopo la discesa degli atleti che andavano dalla trentesima alla sedicesima posizione, è la seguente. Prima Robinson, seconda Stierneson, terza Hauser, quarta Brunner, quinta Wilde, sesta Ellenberger, settima Sibenhofer, ottava Di Re, donna, ahimè, Oldener, Wendy Campanellino, Oldener, non ci siamo, e decima la Grish, e decima la Grish, grande topa, sniaus, proseguiamo, proseguiamo, aiuto, ah sì, eh sì, la Robinson ha fatto il vuoto, ragazzi miei, perché siamo arrivati alle migliori otto, nessuna, dalla quindicesima alla ottava, anzi alla nona, è riuscita a starle davanti. Quindi adesso ci proveranno le migliori otto della prima match, ma andiamo a vedere la classifica prima che scendano le migliori otto. la Robinson resta prima, la Robinson resta prima, era sedicesima, quindi ha già recuperato sette posizioni. la Molson è seconda, la Frossombe è terza, la Ghisin è quarta, la Linsberger è quinta, la Bicic è sesta, la Stierneson è settima, la Truppe Truppe è ottava, la Haaser è nona, e la Brunner è decima. Le nostre italiane devono ancora scendere, quindi dobbiamo attendere. Comunque tocca all'ottava che è Mol, Regina, Ragnil, Movinckel. Ottava dopo la prima match, vantaggio di 93 centesimi sulla neozelandese. Gara di Strecrete è chiaramente davanti, ma per soli 35 centesimi non so se sarà una gara che la potrà permettere di entrare nelle tre, forse nelle cinque, ma anche lì è difficile. Se avesse incrementato, portando a un secondo, un secondo e dieci, il suo vantaggio da 93 che aveva, potevo dire attenzione alla Movinckel. Ma siccome praticamente ha perso tutto, la 93 centesimi che aveva di vantaggio è scesa a 35, ha perso 58 centesimi. Capite che? Vabbè, comunque staremo a vedere. Zitta, zitta la Movinckel, una posizione la recupera, perché adesso tocca la nostra Federica Brignone. Vantaggio di soli 4 centesimini sulla sciatrice norvegese, sesta dopo la prima match. Gara buona, finalmente una bella gara della nostra Federica. si prende il primo posto, ma per soli 13 centesimi. Difficile per il podio, ma magari una o due posizioni le potrebbe anche recuperare. Perché, ripeto, avendo 4 centesimi di vantaggio è incrementato di 9 il suo vantaggio. È un po' pochino, ecco. Tocca la nostra Marta Martissima Bassino. Quarta dopo la prima match, vantaggio di soli 11 centesimi sulla compagna di squadra. Signori, la seconda gara da Grande Libidina e coi fiocchi della nostra Marta Martissima, anzi, la seconda gara da Grande Libidina e qua ci fermiamo, della nostra Marta Martissima, ma io direi che anche con un po' di fiocchi ce li possiamo anche mettere, perché la signorina è prima con la bellezza di 94 centesimi di vantaggio. 94 centesimi di vantaggio. Nella seconda mancia ha dato 83 centesimi alla compagna di squadra. Tanta, tanta roba. Tocca alla Borlet. Vantaggio di 14 centesimi sulla nostra treta e terza dopo la prima match, si giocano il podio. Alla fine, la Borlet si deve accontentare della seconda posizione dietro per 17 centesimi, quindi Marta Martissima è sicuramente sul podio, poi bisognerà vedere se è il podio basso, podio medio o podio da doppia libidi nel coi fiocchi, ma la vedo dura con una Schifrin che ha un vantaggio da paura. Tocca alla Vlova. Seconda dopo la prima match, vantaggio di 15 centesimi sulla nostra atleta. Bella gara della scettrice slovacca. Si prende a sua volta il primo posto per 18 centesimi, ma temo che contro Sua Maestà quei tre centesimini che è riuscita a rosicchiare alla nostra atleta che ha fatto anche una gran gara, quindi riuscire a fare meglio della nostra Marta Martissima è già tanta roba per la Vlova, però temo che per battere la Schifrin che ha 72 centesimi di vantaggio ci voleva qualche centesimino per non decino in più, perché così è dura, però non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Tocca a lei, è lei o non è lei, è lei o non è lei, certo che è lei, è Sua Maestà. Micaela Schifrin, prima e dopo la prima match, vantaggio di 72 centesimi sulla sciatrice slovacca e grande nemica amica perché si sfidano sempre loro due spesso e volentieri. Troppo il vantaggio per farsi scappare la vittoria, la simpatica Schifrin è prima ma per soli 13 centesimi, ne aveva ben 72, vince per 13 centesimi. La Vlova ha fatto veramente una gran gara e quindi contemporaneamente l'ha fatta anche Marta Martissima perché la Vlova gli è stata davanti di 3 centesimi in più, la Schifrin rispetto alla Vlova ne ha persi un botto, ne ha persi la bellezza di 59, quindi vuol dire che sia la Vlova che la Marta hanno fatto una seconda match migliore di quella di Micaela. il problema è che Sua Maestà nel primo aveva già chiuso i conti nella nella prima match e quando tu chiudi i conti nella prima match nella seconda uno fa la super gara o se no c'è la vittoria in tasca basta che non fai puttanate scendi bene quindi non col freno tirato non da pazzo alla Manuel Feller o alla Vola Spacca o all'Alice Robinson che lei va giù va giù secca o finisce la gara o non la finisce però nella gara di Semmering la simpatica Alice è stata quella che ha fatto il maggior recupero sette posizioni incredibile ma vero la gara di Semmering non ha permesso grossi recuperi a parte Alice che ne ha recuperate sette di posizione ma a volte queste gare qua di slalomo di gigante permettono a qualcuna di fare dei recuperi anche di 20 22 posizioni Semmering no comunque ragasoli classifica finale gara di Semmering ce ne saranno tre piano piano le faremo tutte tutte verso fine dicembre ci sono svolte Semmering femminile quindi andiamo a vedere la prima gara che si è svolta a Semmering slalom gigante del 27 dicembre 2022 ha vinto Sua Maestà Michaela Schifrin davanti alla Vlova alla Bassino alla Vorlet che è quarta alla Brignone quinta alla Movinkel sesta alla Gutberami settima alla Hector ottava alla Robinson nona e alla Molsan decima e adesso andiamo a vedere la comparazione tra seconda finale è prima la Schifrin ha vinto era prima nella prima manche resta prima la Vlova è seconda era seconda nella prima manche resta seconda la Bassino termina al terzo posto era quarta nella prima manche quindi recupera una posizione la Vorlet la perde era terza nella prima manche termina al quarto posto quindi perde una posizione la Brignone termina al quinto posto era sesta dopo la prima manche recupera una posizione la Movinkel era sesta nella prima era ottava nella prima manche termina al sesto posto e perde due posizioni la Gutberami termina al settimo posto ed era settima anche nella prima manche la Hector la Hector non era era quinta dopo la prima manche termina all'ottavo posto la Robinson è nona si inserisce recupera sette posizioni e quindi la Robinson era sedicesima finisce nona e infine la Molson termina al decimo posto ma era molto molto indietro era indietro di qualche posizioncella quindi le recupera e si inserisce nelle 10 le atlete che almeno non ci sono rispetto alla prima manche sono la Holman e la Frasson B che hanno terminato chi fuori e chi fuori dalle 10 oppure addirittura non ha terminato la gara però non ci sono né Holman né Frasson B che erano nonne e decima e sono finite dietro fuori dalle prime 10 sostituite dalla Robinson e dalla Molson esattamente no perché ce n'è ancora una perché anche la Hector non c'è più la Hector è arrivata ottava chiedo veni no sono la Holman e la Frasson B sono uscite dalle 10 erano nonne decima e sono uscite Schifrin Vlova Schifrin Vlova Vorlet Bassino Hector Brignone Gutberani ci sono tutte si e la moving che sale recupera due posizioni rispetto alla prima manche 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 vabbè ragasoli come sempre sto notando che tra la prima e la seconda manche ci sono dei cambiamenti no però tendenzialmente le atlete più o meno restano le stesse magari c'è qualche inserimento nelle posizioni più basse ecco per intenderci la nona la diecima magari l'ottava però le prime cinque sei della prima manche finiscono sempre nelle prime dieci anche nella seconda tendenzialmente o addirittura mantengono migliorano la loro posizione a discapito delle compagnie delle avversarie però sono tutte lì anche in questo caso otto delle dieci della prima manche hanno terminato nelle prime dieci anche nella seconda ragasoli io vi saluto vi ringrazio adesso carichiamo subito questo video e poi mi appresto a fare news con news tenete conto ho già preparato anche un'altra gara ma prima devo fare l'altro gigante di Sammering perché ho già fatto lo speciale di Sammering ma arriva dopo 27 28 29 quindi devo fare uno gigante maschile che farò spero nella giornata di martedì per la mattina di mercoledì lo avrete e magari vi aggiungerò anche l'altra gara sempre di Sammering del 29 perché è uno speciale invece piano piano recuperiamo tutto ragazzi il gigione non si ferma mai ciao ciao